bella raga stasera faccio next car game però la versione alfa quindi non più quelle madonne lì di distruzione di massa tipo che ci stavano dentro al alla demo che ma cazzo di macchina prendo no voglio la classe 1 european che cazzo è successo qua dai può andare per disintegrarmi vediamo un po cosa c'è disponibile derby stadium 24 macchine 12 gravel tarmac pratica pratica vabbè ovviamente vado a fare il destruction derby a 24 macchine start race vediamo che cazzo ci dice questo giochetto adesso porca puttana eva ma avete visto che bel paio di occhi che avevo all'altro video and andiamo un po del bis 3 2 1 come on guys adesso vi faccio il culo teste di cazzo oh cristo ah ma c'è questo cazzo si dove cazzo sto andando ah ma non posso uscire fuori dall'arena dai 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 fatevi sotto pazza di merda qua mi sa che ti da un punto quando distruggire qualche macchina si ma qua davanti sto passo e muoio prima io ecco boom madonna sandissima ma io questo voglio fa non riesco non riesco a rimettere oh cazzo ma c'è al contrario volevo usare la mini moto ora è qua ah c'è il freno a mano cazzo no sono tutti io non ho distrutto nessuno vabbè la tattica è quella di porca troia ce la facciamo oh sì oh takedown no oh oddio critical damage porca madonna spostatemi oh che cazzo porca troia c'è un modo di riprendere un po di venite qua no ma cioè se faccio un frontale sono morto oh muori ma affanculo mamma mamma t'ammazzo t'ammazzo ma tondo eh ma critical damage ah la sono fottuto lo posso prendere adesso lo prendo nel culo già lo so guarda qua non ho fatto niente cioè di uno scarso di incredibile che cazzo che ci sta là dentro a guidare sembrava una sembrava una donna però dai oh uno ma chi sono ovviamente c'è il controllo della xbox poteva essere altrimenti d'altro me lo fa intostare sì ok oh ma questo è già morto cazzo faccio dove stanno oh eccolo eccolo eccoli eccoli mamma mia oh finalmente come si chiama sto cazzo di cosa che ho fatto tipo come si fa con lo skate non lo so mannaggia d'inci ma vaffanculo nooo accelerare eh vabbò tanto ci rimango secco ma questo mi sa che ha vinto che cazzo che cazzo quanti siamo oh si due due ah frags due first place first place ma ne facciamo un'altra dai first place no no però non di questo facciamo 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 il tarmac facciamo una gara vediamo un po' che cazzo succede proprio questa sempre pop 24 macchine e dai e porca troia e dai e no sto giochetto però si prospetta davvero succulento cazzo mi piace come si muove la macchina molto figo molto figo molto figo molto figo cioè soprattutto sgarrare per terra ovvero sgommare senti senti andiamoci cambiamo visuale eccoci qua dentro vediamo anche come si vede dentro ma qua vabbè vabbè dai porca troia vedi quel figlio di puttana mi voleva far e io mo ti porco dio ti ammazzo testa di cazzo oh porca puttana mamma mia vedi qua è il culo che se ne sta andando verso nuovi orizzonti e vabbè devo dire il freno a mano ma se ne sta andando per cazzi suoi la macchina mamma mia cioè sento proprio il retrotreno che se ne va da solo oh oh che bellicia porca puttana mi sono emozionato dove è drift ma grazie però 23 su 23 sono proprio fortiii guarda il retrotreno come se ne va mamma tutte ste gomme qua che cazzo fa questo eh te lo meriti eh cioè che cazzo fai magari metto la retromarcia una sensazione di velocità che si prova con questa macchina di merda cazzo ecco come questa curva tipo come la devo affrontare oddi madonna ho tirato un po' il freno a mano oddi oddi ma stanno fai fratte però mamma mia ecco sta sgarrando in una maniera ci sono prima entrato dentro e poi ne sono uscito Ah, una macchina è esplosa E mi sono affezionato a questo cazzo di palo di cemento Porca puttana, che cazzo ho combinato Ma ce la faccio arrivare alla fine del terzo giro? Secondo me no Cioè, ho distrutto la macchina Oddio Ma questo è che sto guidando da dentro Che sono una schiappa Allora, non sono bravo Questi pure qua Ciao, ciao Madonna, ho fatto Posizione 19 su 18 Ok Solo io posso fare Occupare una posizione di uno che non partecipa praticamente Che cazzo significa? Ah, ecco Forse è che stava morendo Eh, mo' sto andando quasi bene Mamma ma Mi ha cazzo sculetta la macchina Ah, ma si guida che è una bellezza Quando ci prendi un po' la mano comunque Tipo non ho Abbiamo accoppato un'altra Bella frenata Col frenare a mano No, dai Scorrevolissimo Cazzo Se non fosse che adesso vado fuori strada Oh, dai Ce l'ho fatta a fare una curva Sono scarso, eh Lo so che sono scarso Cazzo Il cordolo me lo prendo tutto Sono arrivato Nooo Ma che cazzo fa? Ho rotto il muro No, però cazzo irrealismo La grafica, ragazzi Porca madonna Mamma mia Che schifo E continua ad andare Lì L'acqua Boh Su Sotto Ma che cazzo è Alla prossima Alla prossima